Buongiorno Daido, oh è meraviglioso, ieri ho fatto un'intera puntata monografica su Google, un sacco di notizie, un sacco di robe e ho pensato vabbè la faccio così poi non parlo più di Google per un paio di settimane e invece big notizia di ieri, arrivata poi in serata, riguarda Google e tra l'altro riguarda una roba di cui ho parlato proprio ieri, cioè Gemini e Bard e ho parlato di una novità in Bard uscita pochi giorni fa, non troppi giorni fa e invece niente, si cambia tutto e mi tocca riparlare di Google per parlare poi di cambiamenti importanti spoiler, Bard non si chiama più Bard, è uscito Gemini Advanced, vabbè poi lo vediamo, niente, mi tocca parlare di Google di nuovo per due giorni di fila vabbè, siamo abituati insomma, news giornaliere va così, oggi è il 9 febbraio e quindi oggi siamo up to date con le notizie di Google vabbè, ma prima di iniziare, perché oggi in realtà voglio dedicare la puntata a Mozilla perché ci sono enormi cambiamenti in Mozilla, quindi ne parliamo prima di andare però vi ricordo una cosa importantissima, fondamentale e cioè che se siete il pubblico e il target e gli sviluppatori, i DevOps e i full stack developer del cloud, del cloud native italiano che usate Kubernetes, che vi piace partecipare alle community di Kubernetes alla discussione che si fa intorno a Kubernetes e al cloud c'è un evento fondamentale che non vi potete perdere assolutamente è in Italia, ma è internazionale, avremo degli speaker fighissimi, interessantissimi, fondamentali questo evento è KCD Italy, Kubernetes Community Days Italy che si svolgerà nella città che è evidentemente la miglior città d'Italia ed è Bologna, ovviamente si svolgerà a Bologna a giugno, il 20 giugno anzi guarda, vi faccio anche vedere esattamente la pagina su CNCF di questo evento KCD Italy 2024, eccolo qua, 20 giugno dalle 9.30 alle 18.30 a Bologna quindi andate sulla pagina dell'evento, poi comunque vi lascerò il link ma insomma se cercate KCD Italy lo trovate, ci sono tutte le informazioni potete comprare subito i bigliettazzi che sono ancora per un po' di tempo a prezzi scontati e poi naturalmente c'è anche la CFP, la Call for Papers quindi se volete anche voi provare a partecipare a questo evento meraviglioso sul palco portando la vostra esperienza, lo potete fare inviando la vostra candidatura la CFP è aperta e chiude il 4 aprile, quindi avete un po' di tempo per preparare e mandare insomma la vostra proposta, il vostro talk migliore per questa community fantastica italiana ma internazionale di Kubernetes Community Days quindi vi ricordo Bologna, 20 giugno 2024 la location è il Savoia Regency Hotel chi frequenta gli eventi di Grusp a Bologna già lo conoscerà comunque è un luogo insomma adatto, perfetto per conferenze di questo tipo e ora direi andiamo spediti con le news del giorno allora ve l'ho detto, la puntata di oggi è dedicata a Mozilla perché ci sono grossi cambiamenti almeno un grosso cambiamento che però denota un cambiamento di direzione una strada che Mozilla ha deciso fortemente di percorrere e con l'annuncio ufficiale sul blog di Mozilla proprio va a ufficializzarla ed è il cambio di CEO cioè la CEO di Mozilla, o almeno quella che era la CEO di Mozilla fino appunto a ieri cioè Mitchell Baker ha deciso di fare un passo indietro e ha lasciato la sua poltrona, la sua sedia di CEO e infatti in questo comunicato dice ha deciso di fare questo cambiamento o questa transizione dal ruolo di CEO a quello di Executive Chairwoman quindi praticamente sarà la presidente esecutiva di Mozilla Corporation e non più la CEO di Mozilla Corporation tra l'altro lei era già stata Executive Chairwoman per un po' di anni sempre in Mozilla lei ha passato 25 anni in Mozilla quindi è una tra le fondatrici di questa azienda e dice questa mossa è guidata dal desiderio di focalizzarci di più sulla leadership e sulle sfide che abbiamo davanti perché appunto quindi Mozilla vuole dedicarsi primariamente ad aree di business specifici per le quale appunto serve un ruolo dedicato che guidi il business dell'azienda qua non verranno citate esattamente quali sono queste aree in cui focalizzarsi specificamente ma lo vedremo poi chi sarà la nuova CEO di Mozilla è Laura Chambers che però in realtà non sarà CEO definitiva ma è praticamente un ruolo ad interim quindi Laura Chambers è già board member in Mozilla diventerà CEO dice per il resto dell'anno ecco quindi praticamente finché non eleggeranno un nuovo CEO Laura porta la sua esperienza è stato un membro attivo di Mozilla per molti anni e il suo background come imprenditrice e anche membro di board di varie aziende comprende Airbnb, PayPal, eBay e poi è stata recentemente CEO di Willow Innovation quindi insomma quello è il tipo di expertise di focus che sta cercando Mozilla una persona molto focalizzata sul business, sulle industrie e ci sono elencati due obiettivi principali visione e strategia per il futuro quindi refining, quindi diciamo un po' riallineare, raffinare la visione della compagnia con la strategia di prodotto e corporate quindi vedete è un linguaggio molto business, molto corporate e poi dice outstanding execution che non saprei come tradurre una esecuzione fenomenale quindi focus processes capabilities quindi potenziare i core products come Firefox e poi costruire altri nuovi prodotti per apportare sul mercato nel frattempo poi invece Mitchell Baker ritornerà a supportare con un ruolo di supporto al CEO e poi come ruoli di leadership come ha fatto in precedenza infatti si pone due obiettivi primari quella di rappresentare Mozilla in pubblico e soprattutto di rappresentare Mozilla come un'unità unica unificata non come tante piccole parti che si occupano di cose diverse ma insomma una struttura unica non ecco non il risultato della somma delle parti ma insomma un'entità con una visione unica e unificata io insomma devo dire questo comunicato ha molto il sapore di un comunicato corporate di una visione commerciale quindi se ancora ci aspettavamo insomma un po' la visione romantica della Mozilla pioniera dell'open source qua forse potremmo essere un pochino disillusi perché Mozilla oggi è una corporation ed è un'azienda che sta cercando il profitto cosa che non è sbagliata di per sé è soltanto diciamo uno scostamento un po' dalla magari ecco visione della Mozilla open source che ha prodotti come Firefox e Thunderbird che comunque rimangono focus di Mozilla però ecco probabilmente anche per un'idea di supportare lo sviluppo di questi prodotti open source c'è bisogno di un'azienda che faccia del profitto il proprio goal primario per poi andare appunto a supportarle e infatti per approfondire questa visione corporate vado a leggere un articolo di Fortune e su Fortune si parla della nuova CEO di Mozilla si dice che Mitchell Baker sta facendo un passo indietro come CEO per focalizzarsi su AI e sicurezza di internet e questo in realtà era emerso anche dall'episodio dal primo episodio di quest'anno 2024 che avevamo fatto a gennaio dove ecco verificavamo i risultati di 2023 di Mozilla poi la visione per il futuro con tutte le varie voci di entrate e uscite ecco e abbiamo capito che gli investimenti primari erano rivolti all'AI e a prodotti che riguardano la security, la sicurezza ebbene vi faccio vedere che anche Fortune va a... cerca un po' di trovare le motivazioni tra queste decisioni e dice questa mossa arriva a un momento in cui Mozilla non ha scelte se non reimmaginarsi in un mondo che è dominato dalle big tech e dall'AI Firefox che era stato lanciato 20 anni fa e che a un certo punto arrivò al 30% di mercato oggi ha una percentuale veramente minima ha una singola cifra ebbene Mozilla oggi genera la maggior parte delle sue revenue attraverso le partnership e la maggior parte di queste partnership arrivano da Google che Google è anche il produttore del principale browser del mercato e quindi grosso competitor di Firefox ma l'AI ha dato a questa fondazione no profit e alla co-founder Baker, appunto, ex presidente, ex CEO una nuova missione per contrastare i deepfake e i problemi con la privacy la data privacy, ecco oltre al potere delle big tech quindi l'anno scorso ha lanciato la startup Mozilla.ai e oggi è concentrata su prodotti come Mozilla Monitor e proprio Mozilla Monitor è appunto un annuncio insomma di un nuovo prodotto proprio lanciato nei giorni scorsi da Mozilla Mozilla Monitor in realtà è una cosa che già esisteva esisteva come Firefox Monitor ed è un prodotto che gratuitamente vi consente di inserire la vostra mail e fa costantemente scraping della vostra mail per capire se è presente in Databritch è una sorta di... è vibe in pond no? quindi voi state abbastanza tranquilli con il vostro account Firefox perché quando questo viene britchato compare in qualche breach ricevete una mail che vi dice hey attenzione sei finito in un brutto breach qual è la novità di Monitor? che arriverà un update ecco un prodotto aggiuntivo che si chiama Monitor Plus che al costo di 8,99$ al mese 107,88$ all'anno farà al posto tuo la richiesta ai data broker per eliminare i tuoi dati presenti nei vari breach questo lo farà considerando come dati non solo la tua email ma anche altri dati che vorrai fornire infatti come estensione di Mozilla Monitor c'è anche la possibilità di fornire oggi altri dati non solo la mail ma anche dati personali come il nome e cognome data di nascita luogo di residenza e anche informazioni sui parenti e con queste informazioni che saranno comunque protette dalla Mozilla Privacy Policy e criptate salvate in modo sicuro ecco con questi ulteriori dati Mozilla aumenterà l'efficacia della sua ricerca sui web sui data breach per scovare se per caso qualcuno di questi dati è apparso in un breach e notificarvi quindi insomma vedete questo è il primo passo uno dei primi passi di Mozilla verso la creazione di una suite di prodotti che sono monetizzabili ecco che consentono di dare dei servizi a pagamento agli utenti per un po' staccarsi dalla dipendenza delle big tech come appunto Google e dalle revido che derivano dal mettere praticamente Google come motore di ricerca predefinito in Firefox creando dei prodotti cercando di fare un business non sappiamo come andrà però insomma le mosse sono in questo senso se volete bene a Mozilla insomma c'è da sperare che vada bene anche perché Firefox e il futuro di Firefox un pochino dipendono anche da questo ecco invece ora le news su Google e i grossi cambiamenti che non ho potuto intercettare ieri se solo fossero uscite un giorno prima vabbè che succede vado a vederlo su un articolo di D-Day a firma di Roberto Pezzali ed è questo Google taglia la testa al toro Bard diventa Gemini eh sì c'è un grosso un grosso cambiamento di branding e dice Pezzali è una setta sensata perché fino ad oggi molte persone hanno confuso Bard che è il nome dell'interfaccia con Gemini che invece è il nome della famiglia di modelli quindi Gemini diventa il nome ufficiale dell'intelligenza artificiale generativa e la porta di accesso ai vari modelli che verranno invece chiamati Nano 1.0 Pro 1.0 Ultra 1.0 a partire da oggi all'indirizzo Gemini.google.com eh si potrà appunto accedere a questa interfaccia ma funzionerà ancora Bard.google.com e si potrà provare il modello Pro in oltre 40 lingue più di 230 paesi va bene anche ovviamente in Italia non è questa però la vera novità arrivano anche Gemini Advanced e un'applicazione mobile per iOS e Android queste non sono ancora disponibili in Italia Gemini Advanced sarà la versione premium di Gemini permetterà di accedere al modello Ultra in pratica il modello di intelligenza artificiale più grande più capace insomma Gemini Ultra poi sull'articolo seguono tutte insomma una serie di dettagli tecnici vi vado a dire che mentre Gemini che si appoggia al modello Pro 1.0 resterà gratuito come naturalmente era Bard fino ad oggi mentre Gemini Advanced sarà disponibile come parte del nuovo piano Google One AI Premium che avrà un costo simile all'abbonamento Plus di CiaGPT l'accesso a Gemini Advanced costerà 21,99 euro al mese quindi 22 euro con due mesi di prova gratuita e garantirà anche i vantaggi del piano premium come 2 terabyte di spazio di archiviazione e la VPN di Google gli abbonati a questo piano potranno poi utilizzare Gemini in Gmail documenti presentazione fogli insomma tutte le applicazioni della suite di Google questa era un po' la notizia quindi un rebrand praticamente di Bard e poi l'uscita di Gemini Advanced sull'annuncio ufficiale sul blog di Google The Keyword non c'è molto altro da aggiungere insomma se volete vedere anche i filmating dell'app su Android insomma dell'interfaccia dell'app su Android eccoli qua e anche di quella su iOS naturalmente abbastanza integrato con il resto della suite di prodotti di Google e invece ho provato un po' la nuova la nuova Gemini Advanced insomma Gemini Google Com potete iscrivervi appunto come diceva l'articolo di D-Day e attivare i due mesi di prova gratuita giusto per vedere un po' come funziona questa è un po' l'interfaccia col tema dark potete cambiare tra tema dark e tema chiaro naturalmente e poi niente funziona come vi aspettate che funzioni quindi se io gli chiedo chi vincerà Sanremo è difficile poi vedere con certezza chi vincerà Sanremo dato che la competizione è molto serrata al momento i favoriti del bookmaker sono analisa con la canzone sinceramente Angelina Mango con non so Loredana Bertè con Mare d'Inverno Mahmood con Soldi 2.0 allora Loredana Bertè con Mare d'Inverno ma sono sbagliate queste informazioni non è la canzone Soldi 2.0 perché poi altri artisti Geolier con la canzone non sono io no Irama con La Lacrima non credo Elodie non partecipa e Marco Mengoni è il co-conduttore non benissimo eh Google non ci siamo non ci siamo proprio e poi dice per rimanere aggiornato sulle quote dei bookmaker del festival puoi consultare i seguenti siti web calcioefinanza.it non credo non credo che su calcioefinanza.it ci siano le quote di Sanremo e poi iodonna.it può essere attenzione poi una voce sul Cambridge Dictionary che dice indiscreto cioè una traduzione Italian English di indiscreto non so perché hanno messo questo URL sta un po' facendo confusione il signor Gemini advanced e vabbè puoi seguire i festival di Sanremo in diretta su Ray 1 o in streaming che cosa ne pensi chi vincerà Sanremo 2024 probabilmente credo Mahmood con la canzone soldi 2.0 sì sì mi pare che sia il grandissimo favorito per chiudere rapidamente giusto per aggiornare sulle news di cyber security che stiamo seguendo da un po' Ivanti ha rilasciato ancora due nuove CVE e sono Authentication Bypass Vulnerability e sono insomma robe che impattano Connect Secure Policy Secure e Gateway ZTA quindi sono importanti e gravissime e è urgente che tutti gli amministratori di rete pacino i dispositivi Ivanti con queste robe dice Ivanti che non hanno evidenza che queste robe siano sfruttate insomma da attaccanti oggi però in realtà l'urgenza è abbastanza evidente e infatti la CISA che è l'agenzia statunitense per la cyber security aveva ordinato il primo febbraio di disconnettere tutti gli apparati Ivanti vulnerabili dalla rete proprio per trasmettere un senso di urgenza entro 48 ore quindi infatti anche su Arstechnica c'era questo articolo sulla decisione della CISA ecco di andare a far disconnettere a tutti questi mani di dispositivi vivanti che sono super bucabili super vulnerabili e vi do un ulteriore input sulla problematica di cyber security delle VPN perché ieri anche Fortinet ha rilasciato una CVE molto grave su una vulnerabilità RCE della sua VPN chiedendo a tutti gli amministratori di patchare immediatamente non ci sono dettagli sulla vulnerabilità e su come sfruttarla probabilmente per non dare un vantaggio competitivo a chi vuole tentare di bucare questi apparati però insomma la gravità è molto alta e fa capire queste notizie insieme anche fanno capire quanto le VPN siano un grosso problema stiano diventando un grosso problema molte di queste CVE sono tutte riferite a un'esecuzione di codice out of bound quindi a problematiche relative appunto a codice C o C++ che probabilmente sarebbero risolte utilizzando un linguaggio memory safe o comunque costrutti memory safe e invece questi che sono software legacy magari o evoluzioni di software legacy comunque non patchate molte di queste non saranno patchate soprattutto nei settori privati iniziano ad essere un grosso problema soprattutto perché nelle VPN insomma si dà per scontato molte aziende danno per scontato che siano sicure vabbè lo sto giusto per dire la gravità insomma della situazione che si sta configurando in questi giorni per chiudere due link velocissimi il primo nearbywiki.org questo è un wiki di posti interessanti geolocalizzati quindi qua per esempio sono a Bologna vado a vedere che cosa c'è qui in via San Felice c'è Santa Maria della Carità questa è una chiesa che c'è in via San Felice e basta vi dà appunto la location una breve descrizione ed è tutto user generated qua per esempio c'è San Nicolò di San Felice insomma ci sono un po' di indicazioni su posti questa è sicuramente Porta San Felice eccola qua Porta San Felice e spiega un attimino che cos'è tra l'altro c'è anche una possibilità di andare a vedere più dei dettagli guardate che figo questa paginetta questa fa riferimento a Wikipedia quindi va a prendere l'informazione da Wikipedia ve le formate in un certo modo e poi vi fa vedere appunto se siete interessati ai posti cosa c'è intorno a voi ecco che magari non conoscevate o andate in una città nuova e volete vedere cosa gli utenti vi suggeriscono qua per esempio c'è la Certosa di Bologna insomma NearbyWiki.org mi sembrava interessante da condividere e l'altro invece è un piccolo articolo di rant no non è un rant vabbè è una critica un'opinione ecco contro Blue Sky non ve l'ho detto non ve l'ho citato tra le news ma sicuramente l'avrete saputo Blue Sky adesso ha aperto a tutti quindi potete iscrivervi a Blue Sky senza la lista d'attesa senza gli inviti potete andare e iscrivervi a Blue Sky il nuovo social network decentralizzato creato dal fondatore di Twitter Jack Dorsey e benissimo questo articolo si intitola Blue Sky is Cosplaying Decentralization non c'è bisogno che ve lo traduca e parla un po' di come Blue Sky sta portando avanti questo concetto di decentralizzazione in una forma che insomma non è esattamente decentralizzazione in formato insomma nella sua forma ideale e è interessante anche per capire un pochino come funziona questo protocollo e un'opinione insomma una cosa opinionata da qualcuno che ne sa ma ripeto Blue Sky is Cosplaying Decentralization come comunque naturalmente questi link ve li lascio nella descrizione dell'episodio e io mi fermo qui grazie per aver seguito anche questo buongiornissimo vado proprio in relax verso il weekend quindi vi auguro un buon fine settimana noi ci rivediamo alla prossima settimana per altre news frizzantissime spero non aggiornamenti da Google perché basta abbiamo fatto troppe volte ciao